E' morto ieri, all'età di 74 anni, Remo Forresu, ispettore onorario della Soprintendenza dei Beni Archeologici e curatore del Museo Archeologico di Sant'Adi. Con estremo dispiacere esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa del caro Remo Forresu, hanno comunicato ieri sera il sindaco Massimo Impera e l'amministrazione comunale di Sant'Adi. Remo è stato un importante punto di riferimento per l'archeologia del territorio, partecipando a numerosi scavi nel Sulcis, ma non solo. Grazie a lui, nel 2001, è nato il Museo Archeologico di Sant'Adi, di cui è stato il curatore per tanti anni. Lo ricordiamo con gratitudine per il lavoro svolto a favore del nostro Paese. Remo Forresu era andato in pensione nel 2017, al termine di una lunga carriera durata a 40 anni, nel corso dei quali ha lavorato con una grande passione e amore per il suo territorio per valorizzare lo straordinario patrimonio archeologico di Sant'Adi e dell'intero Sulcis, nel quale spiccano l'insediamento fenicio-punico di Paniloriga a Sant'Adi, le necropoli di Montessu a Villa Peruccio e i Slocis Santus a San Giovanni Suergiu, in Luraghe Terresi a Sant'Anaresi, conosciutissimo anche perché da 37 anni, la diecente piazza e sede di svolgimento del Festival Internazionale ai confini tra Sardegna e GES e infine il Menir di Terrazzo a Villa Peruccio.